L'unità operativa complessa di cardiologia continua la sua crescita presso l'ospedale Bonomo di Andria, due giorni di approfondimento a Trani nella cornice di Palazzo San Giorgio, attraverso il congresso Cardiobat 2023. Il nosocomio federiciano è il secondo centro in Puglia per risoluzione di infarti al miocardio e tra i pochi ospedali regionali ad occuparsi di crioblazione e trattamento della cardiopatia strutturale. Andria sta sviluppando due linee di progetto importante, uno l'elettrofisiologia e l'altro la cardiopatia strutturale. Con l'alvento della nuova sala, l'anno scorso, abbiamo raddoppiato i numeri di impianti. L'anno scorso abbiamo cominciato con le destre e quest'anno ci stiamo occupando del trattamento ablativo della fibrillazione atriale con una nuova tecnica presente in pochi centri che è la crioblazione. Ma non solo, stiamo dando spazio moltissimo alla cardiopatia strutturale di cui si occupa il dottor La Rosa per quanto riguarda la chiusura del forame ovale e soprattutto anche la chiusura dell'auricola che va a chiudere un altro cerchio importante nel trattamento della fibrillazione atriale. Ci sono pazienti con fibrillazione atriale che non possono eseguire la terapia anticoagulante per evitare l'ictus ischemico e in questi casi è indicata la chiusura dell'auricola sinistra.